3, 2, 1, paradise go! No, vabbè, ok, è uscito a paradise, no. Grazie mille, Manino Gabriele Italia, per la suba. M1, la DPG333 e Neskere, brother. Ora, se ti ho fatto la suba. Mi sarei dovuto tirare il medikit per gli interessati. No, no, l'età. Sono altissimo, va di un secondo. Grazie, ma c'è te ozza. La risoluzione è 1980, giusto per 1200? 1920 e 1980 per 1200. Ok, qua, qua, questa casa, questa casa, vieni. Vengolo. Non ci arrivo. Ok, ho un tac. Ho un tac pure io e ne ho visto uno e l'ho iltato pure bello ferito. Uno è sul tetto della casa. E uno è qua da me. Arrivo da te. Il tetto della... Della grattacielo, eh. Ok, lo vedo, lo vedo. Qua davanti. Iltato a morte. Non cado uno. C'è l'altro che corre. Aper la porta, davanti a te. Di giro. Lascio tac blu. Mancano... Ne abbiamo fatti nulla. Mancano quelli che stanno al grattacielo. Sotto al grattacielo, è proprio sotto. Arrivo. Messo tre hit. Meno 90. Spatto uno. L'altro è dietro. L'altro sulla destra. I quelli spanni e i quelli spanni dietro. Sto scappando dentro. Riscappa dentro. Spatto bro. Dj. Allora. Questo aveva... Con il cecchino sto andando goddins. Vai. Andiamo al portale? Vai. Allora, la gente sta andando a ritare il robo. Vai, andiamo a cercare. Domanda se... Dopo la vedo la domanda. Ci sono altri problemi italiani di Fortnite. Beh, i makers hanno un team. Mi clasham in team. Gli exeed pure. Penso che siano pagati. C'è qua sotto. È un domino di marzapane. Visto, visto. Dietro i te. Bro, io non lo vedo. Sennò ti aiuterei volentieri. Soprima. E gli altri a nord. Mi hanno sparato da nord. Poi c'è un medico. Dando. C'è uno scarpo. No, non ho bisogno di scarpo. No, non mi mettei al muro. Da nord, mi sperai. Sì, mi è arrivato tutti i danni da nord. Tutti. Senti, non mi è nessuno, mi credi? Cerco di sputt... È davanti a me. Mezzo a bar, guarda. Vabbè, questo non c'era con la testa. Ho le pozzette. Ok, ok. No, però attualmente i team italiani che hanno dei pro player sono Exceed, Makers, Clash, e poi non so se ce ne sono altri. Non li conosco ovviamente tutti. Secondo te grazie a Forn si potrebbe formare come venita? Assolutamente no. Gli italiani non ce la fanno con la loro mentalità. Ed è la stessa cosa che li blocca. Perché ognuno vuole prevalere sull'altro. Perchino sui compagni di squadra. Come va? Aspetto? Oh. Oh. Ah, pensavo ce l'avessi con la tua ragazza. No, non c'è niente, non c'è niente. Stavo andando a funghi, vero? Ti interessa. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Questa cosa dei team che si spallano a merda anche tra di loro? Beh, che ognuno vuole prevalere sull'altro. Tu che hai pure tu, sei stato in baritino. Ricade sempre sul discorso dell'essere umile. C'è anche un discorso di quando si builda un team. I componenti comunque non devono essere presi come se fosse un incontro al bar e dicono Ah, ci andiamo a mare insieme. Penso che debbano essere scelti quando vanno dentro una community e vengono pagati, anche per i tratti mentali. Ce l'ho accanto, bro. Devono essere maturi anche loro stessi nel saper dire che c'è chi è meglio di chi. Il fatto che vogliono prevalere su altri è perché non ci sono tutti. Dove sto sparando non lo sto facendo salire. Si è incrickato tutto. Si è buttato giù? Si è buttato, si è buttato. Lo vado ad anticipare. Fatto. Ok. Ti ha rinunciato proprio a questo. Mi sono fatto una bella build fight con questo tizio. Non era male il tizio a buildare, te lo dico. No, non ho visto. Eh, guarda che abbiamo creato una bella struttura. Era bravo a buildare. Ce l'ho davanti uno? Sta dentro lo salty? Lo flanco. Lanco da testa. Ci si affaccia da te. Arrivo. Porco dio. Mi stava lui? Mi sono di fronte. Mi fa ridere che pensano a spararti. Mi li potete fatare. Già. Si sta pozzettando. Guarda che questo mi finisce. Questo è incantaneo. Guarda che sto schifo ultraterreno si era affacciato per piccarti. Lo so, ho visto. Schifo. Ci hai pozzette? Sì, sì. Grazie team, poteva, non l'ho visto. Scusami, grazie mille per i tre mesi. C'è stato pure un nuovo sub. Scusami, non ti ho visto. Aspetta che devo... Ti buco qua, c'è un medico, bro. Io comunque, tornando al discorso team, la vedo così. Cioè, prima, quando, diciamo, la società che ti prende a giocare, non deve essere solo perché segue il brand, quella cosa. Deve anche seguire il team scegliendo loro, anche i giocatori, a volte. Sì, deve fare una scelta logistica sulle mentalità dei giocatori e farle combaciare. Se prendi troppe figure predominanti all'interno di un team, dove tutti sono troppo egoisti, a primo errore, non sa se qualcosa ci vuole. Eeeh, oh, l'ho vissuto su Overwatch e su Code, questa cosa. Stanno fai danni su... Questo problema. Eh, lo so. Ce l'hai lì. Oh, aspetta che provo la snagherata della vita. Oddio, l'ho preso. Che poi su Overwatch, non so, forse proprio Overwatch era uno di quei giochi dove c'era una presunzione, un egoismo. Mamma mia. Non so perché... Sto facendo un po' di materiale. Io potrei far dare, ma non so se... No, andiamo a piedi. Andiamo a piedi da sotto. Aspetta che sto facendo un po' di materiale, io. Altre due nuove sub, che sono Nico God e Mickler. Grazie mille, belli. Benvenuti nella dpg333 e Nesgheri, guys. Ora mi vieni a dire perché lo faccio. Uh! La faccio molto YOLO. Scusate di sparmiare. Sto smitragliando, eh. Sta incando pure l'altro team. È incato con una pedana. Con una jump. Cerca di salire in altezza, c'è un altro team. Ci stanno tirando i razzi per romperla la scala. Ho due che sanno a buildar. Merda, devi aspettarmi. No, Matt, ti ho fatto cadere a te. Scendi giù, scendi giù. Buttiamo giù tutto, Matt. Aspetta che ho il... C'è uno qua, c'è uno qua, c'è uno qua, bro. Scendo. Ho fatto uno. Faccio uno. Mi hanno spaccato tutto di nuovo. Mi sto mettendo le shield. Mi sono andando da... Del razzo. Team dietro dovremmo noi, due team. Qua si li abbiamo fatto noi. Eh, abbiamo fatto una bella cosa qua. Allora, dovremmo noi. Sì, vai, vai, vai. Vai con calma pure. Qui, se ti serve line, c'è cap. Ciao team, ciao team. Merda. Grazie. Faccio cadere tutto, è c4. Vai, 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 vai. Ah, ma si sono chiusi sotto, si sono chiusi. Li spottiamo. Qua sotto. Bianco. Lo chiudo di qua. Questo l'ho fatto, c'ha pure una pozzata 50, se vuoi. Vai, calati. Mi prendo il lancio razzi. Eh, non voglio essere per me. Me la calo io? Cala, cala. Sto guardando da su. Mazza, bei fight, bro. Eh, 75. Due team. Due team, due team. Sto prendendo... Eh, qua c'è un lancio razzi d'oro, però non vorrei... Eh, lo prendo io perché ho l'ultimo c4. Che se preferire il c4. Uno l'ha incavi malissimo. Però buco. Hai visto quello? Miriamo tutti e due a quello? Sì. No, non è niente. Guarda a sinistra. Non lo vedo più. Facca. Non c'è manco un pad o qualcosa. Non lo so, dry loot. Eh, sai cosa? Gli vado. Comincio ad avvicinarmi. Alla safe? Ok, bianco, bianco, bianco. Ho tirato lo shot col caccia, ma non è entrato. Comunque il tizio io l'ho finito subito pet, ma mi sa che c'è qualcun altro. Quello là col corvo, vero? Il corvo era noccato. Era noccato. L'ho finito subito perché pensavo ci fosse il compagno, lo sai? Eh, eh, su dove sta? Salgo su. Sta dove c'è il tacos. Sicuro? A me sembrava qua sotto. No, sono qua sotto. Ah, bene, non giuro, sì. Quello gli si è staccato il telefonino che ha schiacciato il blocco. Blocco a scala. Mannaggia, petto, se lo rischia di morirci, non c'è. Ovest, ovest, o schiacciato. Ehm, eppure, cazzo, ultimi due. Ovest, no. Ehm, nord. Ma quella casetta lì, bruttissima, i mattoni? Ehm, non c'è niente al lutto. Ah, qua ho trovato i 300. Vai. Meno 90. Comincio a bombardare. Vai, vai. Ehm, benzinaio? Ehm, no, no, 300 proprio. Ah, ok. Tra una bordo 6. Scicciato? Quello è one shot. Guarda che l'altro. Ho messo un hit. Oh, non è entrato un colpo, bro. Non è entrato un colpo. Ah, vabbè, si sta tirando là. Tutto là. Ma sono altri hit, si sta tirando là. Fatti, bro. Madonna, l'ho meltato. GG per la goal. Io qua c'è roba. Se ti serve. Miche, che col mi hai fatto? Gli sono violato addosso, veramente. Gli sono violato. Volato e violato. Secondo me c'è gente lì dentro davvero. No. Un modo per farsi riuscire dei team senza streamare. Gioca bene. Cerca di fare strat alte. Se ci sono dei tornai, gioca lì. Anche se su Fortnite totalmente non ci sono. Social aiuta un parecchio. Davanti a me. Arrivo. Non so se ti lo faccio. Guarda, guarda. Uno è un babbo atomico. Oh, è questo? Ha provato il trick, ma mi è andato un po' male. Va dentro, bro. Qua. Esattamente qua. Era quel fucile, guarda. Mi è rimasto imbaccato. Ce l'ho dentro la mano. 95% di accuracy. Eh! Iscriviti al canale